L'ESSENZA Bhagavad Gita 10,3941 Io sono l'essenza di ogni creatura o ariuna, poiché fuori di me non può esistere cosa alcuna, né animata né inanimata. Ovunque tu trovi forza o bellezza o virtù, sì certo che tutte queste cose sono scaturite da una particella del mio essere. Commento Tutte le grandi religioni proclamano la perfezione dell'assoluto.